che sei pietrita allora non mi permetterei mai di andare contro cesara che per me io la amo veramente che ci si creda o no a questa cosa ma ho sempre più desiderio di incontrare il fidanzato per sentire il suo parere per capire cosa ne pensa se è normale una cosa del genere però ragazzi adesso è stato detto che è una cosa fresca ripeto ci abbiamo mille telecamere per cui non sarà un problema riprendere il momento in cui lei mi ha detto ha 40 anni ha detto a tratti ha detto che le mancava tratti no la primissima chiacchierata che ho fatto con julia lei mi ha detto io sono fidanzata c'ho il cuore impegnato è una persona ha 40 anni mica un ragazzino e ha indicato loro per cui ora le cose sono cambiate ma tu scusa gessi sauna avevi visto qualcos'altro io non so di che cosa hanno parlato in sauna ma sicuramente secondo me hanno toccato degli argomenti che mi piacerebbe molto ascoltare poi capace che non hanno parlato di niente come mai tu non ti sei fatta più vicino per far l'ascoltona ma non esiste sono una regina rimango in casa